L'Ufficio Ecologia Urbana del Comune di Fano si occupa del corretto rapporto tra uomo e animale e del benessere animale attraverso la gestione del canile, del gattile, dell'oasi felina e della collaborazione con le associazioni di volontariato, con le guardie zoofile, in particolare con OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ed EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, e con i singoli cittadini che si dedicano volontariamente a questo aspetto del civismo. Perché l'Ufficio possa intervenire per aiutare gli animali in difficoltà sono molto importanti anche le segnalazioni. In caso di avvistamenti, di maltrattamenti o malgestione di animali, contattare tramite email questi indirizzi di posta elettronica. Per il pronto intervento, in caso di urgenze, chiamare la centrale operativa di polizia locale oppure il numero verde. Di che cosa si occupa il vostro Ufficio? Dunque, il nostro Ufficio, che si chiama Ecologia Urbana, si occupa prevalentemente del buon modo di convivere tra gli animali e gli esseri umani. È composto da tre persone. Sono delle persone straordinarie perché per lavorare in questo Ufficio sicuramente ci vuole, a parte la competenza, ma anche molto cuore e contestualmente razionalità e tanta pazienza. Ogni specie di animale ha le sue caratteristiche, quindi ha un modo di comunicare, ha delle esigenze che sono diverse dalle nostre. Diciamo l'esempio del lupo, per esempio. Quando il lupo si avvicina, la corpa è dell'uomo. Certo, tutti gli animali selvatici che si avvicinano lo fanno perché hanno un motivo, o più di uno in questo caso. Quali sono questi motivi? Innanzitutto il loro ambiente naturale, che a loro piacerebbe molto di più indubbiamente, che è invaso dall'uomo, invaso sia con le strade, con i campi coltivati, con la caccia e anche, come abbiamo visto purtroppo, anche con il turismo. Alcune volte questo impatta poi con la tranquillità degli animali selvatici. Quindi gli animali selvatici vengono in contatto con l'uomo non perché vogliano, ma perché ci si trovano, perché cercano qualcosa. Questo qualcosa è cibo e mancanza di predatori per le prede, cioè una situazione che non è quella naturale. Parlando di cane, il cane è un animale sociale. E visto soprattutto che adesso ci avviciniamo all'estate, diamo dei consigli utili per l'estate. Dunque sì, il cane è un animale che vuole stare in compagnia, in che senso? Che è un animale che sta in branco, quindi i cani lasciati soli nei recinti, specialmente se lontani dalle abitazioni, o comunque fuori dalle abitazioni dove c'è il resto del branco, soffrono molto. Si pensa che un cane quando ha da mangiare e da bere, tutto sommato, stia a posto, non è vero, perché per il cane in particolare la compagnia del suo branco è come l'acqua, è come il cibo. Per l'estate chiaramente le cose si complicano un po', cioè per l'inverno c'è il freddo, ma per l'estate, specialmente con i cambiamenti climatici, dobbiamo fare un po' più di attenzione, soprattutto appunto a chi non li tiene in casa. Quindi più acqua, farli passeggiare nelle ore più fresche. E una cosa in particolare vorrei dire, coloro che portano gli animali con i velocipedi, non solo è vietato dal codice della strada, ovvi motivi di sicurezza, ma il cane, e non è detto che il cane debba per forza essere stanco e quindi sia quello che va tutelato, ovviamente anche quello è prima di tutto quello, ma il cane che viene portato in passeggiata ha bisogno di fare le sue esperienze in passeggia del cane, non utilizza tanto lo sguardo quanto lo ha fatto, deve avere il tempo quindi di passeggiare e di fermarsi dove si vuole fermare. Cioè non è la sgambatura tanto per farlo correre. E comunque, se proprio dovete farlo correre, ci sono gli sgambatoi. Lanciamo un appello affinché tutti i comuni istituiscano un ufficio per tutelare gli animali. È fondamentale il corretto rapporto tra gli uomini e gli animali, perché gli animali, come sapete, si stanno avvicinando molto di più. Con loro abbiamo un rapporto molto diverso da quello che c'era un tempo e è proprio una trasformazione sociale, per cui è assolutamente fondamentale che ci siano delle persone dedicate negli uffici comunali, ma anche magari intercomunali, possono anche mettersi insieme, i comuni avranno degli uffici che si occupano di queste tematiche che, ripeto, sono a metà strada tra l'etologia, l'ecologia e anche il sociale.